Le persone coinvolte sono i familiari delle vittime, le autorità e tutti quanti i corpi di soccorso che hanno partecipato. Ovviamente saranno invitati anche i sindaci delle località, delle città dove le persone risidievano, le persone che sono accadute all'interno dell'incidente della marmolada. La manifestazione si articolerà innanzitutto sulla presentazione, un ricordo delle persone decedute. Questa è la parte più importante delle due ore di manifestazione. Perché abbiamo fatto una promessa a ognuno di noi, soccorso il Pino Cai, non vi dimenticheremo. Questa è una manifestazione che non vuole dimenticare queste persone. Prendiamo anche quello che è successo affinché dimenti una lezione per tutti quanti noi, per non dimenticare sempre. E quindi vi saranno tre interventi, un intervento del soccorso al Pino, un intervento delle guide alpine e un intervento del Cai. Il tutto sarà intervallato da un coro di montagna che parteciperà alla manifestazione. E alla fine della manifestazione faremo una passeggiata simbolica che ci permetta di ricordare ancora con gli stessi insidenzi maggiormente le persone. Grazie a tutti.